Cecilia e Ignazio Alleiene Cecilia e Ignazio Alleiene, paragone intimo tra Mosè Remonte a letto e sulle dimensioni Tutte le domande le risposte spinte. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sbarcano alle Iene. Durante lintervista doppia molto spinta non si sono posti freni. Inevitabilmente ci ha finito di mezzo anche Francesco Monte. La modella argentina infatti non ha avuto problemi a rivelare che a letto, con Moser, ha trovato un'intesa mai avuta prima eppure che le dimensioni del suo nuovo love sono più importanti di quelle dell'ex. Spazio anche ai momenti intimi vissuti in posti strambi, come ad esempio un camerino di Mediaset. . Sono seguite tante altre chicche. Andiamo a leggere lintervista completa rilasciata dalla nuova coppia, fresca di Grande Fratello Vip. . Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, lintervista doppia alle Iene. Domanda, siete innamorati?. . Risposta Cecilia, molto. . Risposta Ignazio, tanto. . Di, chi ci ha provato per primo? C'è, io. . Ig, ho preso l'iniziativa se vogliamo. . In che modo?. . C'è, gli ho consigliato un post dove potevamo baciarci. . Parli della tenda? C'è, bravo. . Ignazio, quando hai capito che te l'avrebbe data?. . Ignazio, non era tra le prime nostre priorità. . Cecilia, quando hai capito che gliela avresti data?. . C'è, subito. . Dentro la casa avete consumato? C'è, sì. Ig, non mi ricordo, ride ndr. E fuori?. C'è, anche. Ig, diciamo che ci divertiamo. . . Come è andata la prima volta?. . C'è, è durato due secondi. . Ig, sessanta giorni di astinenza. . Può succedere la prima volta e. . C'è, diciamo che all'inizio è andato sempre così. . . Meglio dentro o fuori?. . C'è il Ig, risposta unanime, fuori. . Cosa non ti piace a letto? C'è, niente. . . Ig, stare sotto. . E lì il rapporto intimo migliore della vostra vita?. . C'è il Ig, risposta unanime, sì, tutta la vita. . Cecilia quanto devono durare i preliminari?. . C'è, tempo necessario per essere al punto caramello come diciamo noi. . Avete sperimentato tuis?. . C'è, e superdotato non servono, magari tra un po', ride, ndr. . . I rapporti nel lato B?. . C'è, ci sta pure lì. Id, perché no?. . Cosa ti piace di più nell'altro?. . C'è, il suo pisello, ride, ndr. . Ig, occhi. . Elencateci i posti in cui l'avete fatto da quando siete usciti. . C'è, in piedi. . In camerino di Mediaset, tutti i letti in cui siamo stati insieme e. . Meglio lui o il tuo ex ha letto?. . Cecilia risponde da sola senza che Ignazio la senta, meglio quello di adesso. . Chi è più dotato? C'è, Ignazio. . Ignazio a tuo padre piace Cecilia?. . Ig, tanto. Tra voi è amore?. . C'è, sì. Ig, mi auguro per sempre. . Vi sposerete?. . . Risposta unanime, speriamo di sì. . Volete figli? C'è, tanti. . Ig, ne voglio più di uno. . 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